ciao ragazzi buona domenica pomeriggio dal vostro bandito rosso nero sono qui a vedere mio figlio che gioca a fine primo tempo quindi ne approfitto per parlare con voi del nostro grande milan intanto vi ringrazio per la live le visualizzazioni commenti veramente vi ringrazio pollicione se vi piace il video se vi piace il canale iscrizione e campanella per le notifiche bella domenica ragazzi bella bella domenica vedo che siete tutti belli carichi belli galvanizzati ci voleva questa vittoria dopo la sconfitta di londra perché ritroviamo fiducia ritroviamo spirito carattere grinta gioco ritroviamo tante cose che insomma così abbiamo un po traballato in quel di londra pur con tutte le attenuanti del caso insomma ne abbiamo ne abbiamo tante lo sappiamo ci sono capitati di infortuni tanti troppi in un momento delicatissimo ma questi ragazzi hanno hanno veramente qualcosa in più sotto tutti i punti di vista e vorrei dedicare questo questi minuti questo questo video questa a pierino a pierino calulù lo dedico a lui perché non lo so ragazzi lo vedete lo spirito che ha calulù quando gioca non si risparmia mai e sempre concentrato sempre attento sempre rispettoso mai una parola fuori posto mai una protesta fuori posto mai un fallo cattivo mai e che giocatore è pierino calulù ma che giocatore è solo in questa stagione solo in questa stagione ho già in mente tre salvataggi che io che sono un po più anzianotto sono i salvataggi che vedevo fare a franco baresi con le scivolate alla disperata a sandro nesta paolino li faceva più sulla fascia quando era in centro era un po più attento a interente che erano soprattutto la specialità di baresi e di nesta e calulù anche ieri una palla che pochi avrebbero si sarebbero lanciati a salvarla e pochi ci sarebbero riusciti quella all'ottanta quattresimo mi sembra o all'ottantesimo non ricordo insomma sembrava gol fatto tant'è che tomori è andato abbracciarlo come avesse fatto un gol e io direi che pierino calulù rappresenta in pieno lo spirito di questa di questa squadra di questo mister di questa società insomma di quello che è il milan oggi anche del pubblico se così si può se ci possiamo coinvolgere anche noi senza perché siamo veramente un uomo in più quando il milan gioca a san siro ragazzi è qualcosa di straordinario è veramente qualcosa di straordinario io spero che dalle live emerga questo cioè dalle live venga fuori veramente l'atmosfera che si vive quando gioca il milan in casa perché è un qualcosa di strepitoso che oramai prosegue da dall'anno scorso dalle ultime partite in cui si è cementato questa unione di tutto lo stadio ed è proseguita per tutte le partite di quest'anno è veramente un qualcosa di meraviglioso sembra di partecipare veramente a questa cavalcata dei ragazzi e io credo che loro in campo lo sentano loro in campo lo percepiscano e si è creato veramente un qualcosa di bello di di emozionante e calulù dentro tutto questo secondo me rappresenta benissimo perché va benissimo teo di cui vi ho già confessato stamattina di essere innamorato pazzo va benissimo leao grandissimo raffaellino va benissimo tonali va benissimo tomori vanno benissimo tutti ma pierino arriva veramente dal nulla pierino arriva in questa squadra che non ha mai giocato una partita da professionista qui veramente c'è anche l'intuizione la capacità forse anche la fortuna perché uno poi non si immagina di ritrovarsi per le mani qualcosa del genere arriva senza aver giocato una partita da professionista arriva come terzino destro ovviamente nessuno lo calcola nessuno 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 dica che calcolava pierino calulu ricordo la prima volta che lo vedi giocare a parte le amichevoli estive fu in una partita di europa league se non sbaglio se non mi ricordo male e giocò da centrale e giocò bene e parlando con i miei figli dicevo però non male questo pierino calulu però sono quelle cose che sai tutti tu dici sì vabbè ha fatto la partita ha fatto la partita ha giocato bene ma finisce lì poi lo rivedo giocare a genova e mi piace anche lì poi lo vedo entrare a san siro perché si fa male chier o gabbia gabbia forse si fece male gabbia non avevamo più nessun altro da mettere dentro in difesa entra dentro pierino calulu e fa un'altra grande partita poi si fa male chier e tutti chiediamo che la società vada sul mercato perché non possiamo mettere calulu titolare no e invece maldini non prende nessuno e calulu inizia a giocare titolare da lì in poi si sapete com'è andata una prestazione migliore dell'altra una prestazione migliore dell'altra e così nel milan e così nell'under 21 francese una continuità pazzesca una continuità incredibile tant'è che nella partita nella partita di londra col celsi se andate a vedere le mie bandito pagelle anche lì è il migliore in campo ma non solo per me non solo per me penso per tutti quelli che abbiamo visto la partita sempre sul pezzo sempre concentrato ieri deve giocare terzino deve tornare a quello che diciamo all'inizio era il suo ruolo quando è arrivato nelle prime amichevoli precampionato dove tutti noi pensavamo giocasse e ragazzi lo fa con una disinvoltura con una capacità ha annullato letteralmente Kostic dal campo l'ha letteralmente annullato andava a chiudere anche in mezzo su Vlaovic e anticipava si proponeva col Napoli ragazzi in un momento ci fa il gol che strameritavamo ma come lo fa? come rischia di farlo? con un anticipo una ripartenza cosa già fatta già fatta in un'altra partita di campionato non ricordo se col Bologna o con l'Udinese ragazzi Pierino Calullo è un campione incredibile Pierino Calullo è un giocatore formidabile quando lo dicevo già stamattina qualcuno critica cioè critica ancora si stupisce di Pierino Calullo vuol dire che questo non guarda le partite non guarda le partite del Milan non capisce i giocatori non conosce i giocatori ragazzi Pierino Calullo ieri ha entusiasmato San Siro lui e tutti gli altri giocatori ma lui non è amato è amatissimo da San Siro è amatissimo perché è veramente qualcosa di meraviglioso perché è bello è pulito è preciso costante Pierino Calullo rappresenta benissimo il nostro Milan io spero che questo rinnovo arrivi veloce e sono convinto che arriverà perché Pierino insomma si trova benissimo il Milan si vede dalle prestazioni si vede si vede no quindi io spero che questo rinnovo arrivi ma perché voglio vedere il suo viso sorridente al momento della firma perché Pierino Calullo è un'immagine bella del calcio Pierino Calullo deve essere l'esempio per tanti per tanti anche per chi magari ci ha provato e non ce l'ha fatta e per chi magari viene tenuto ai margini Pierino Calullo è la parte bella del calcio e noi siamo orgogliosi che faccia parte della nostra squadra e vogliamo ovviamente che ne faccia parte ancora per tanto tempo perché Pierino Calullo è rispettoso rispettoso degli avversari rispettoso degli arbitri rispettoso di tutto e di tutti oltre a essere un grandissimo campione che al momento penso abbia un valore di mercato inestimabile Pierino è tutto dedicato a te siamo veramente orgogliosi che tu faccia parte del nostro Milan Pierino continua così forza Milan ciao ragazzi pollicione per Pierino